Allocare un portafoglio totale? Fatto. Allocare un portafoglio di ETF? Facciamolo. Perché come dice il famoso Warren Buffett, la maggior parte degli investitori dovrebbe puntare a quello e noi pendiamo quasi completamente sempre dalle sue labbra. Lui ne propone uno solo che segue un ampio indice e oggi noi lo arricchiamo con il nostro tocco, quello personalizzato, per cui seguimi dall'inizio alla fine e facciamolo insieme. Settimana scorsa abbiamo parlato e strutturato un portafoglio che includesse un mix di azioni, ETF, small cap, obbligazioni eccetera. Ma se volessimo creare e gestire un portafoglio con queste tematiche ma fatto solo di ETF? Eccomi qua a tua disposizione. Partendo dalle considerazioni fatte nel video precedente andremo a contestualizzare il tutto ai solo ETF, per cui rimani fino alla fine se vuoi che tutto sia chiaro e per vedere gli esempi di allocazione che darò per ogni tipo di investitore o quasi. Le premesse sono simili a quelle del video della settimana scorsa che ti lascio qui in alto da qualche parte, ci sarà da qualche parte, ma sono leggermente diverse. Qui infatti l'approccio è totalmente personalizzabile e non completamente conservativo come ho fatto nel video precedente. Per tale motivo è da sottolineare che la personalizzazione dell'allocazione è prettamente infinita e i tre esempi che andrò a dare sono semplicemente una piccolissima parte. È come se io ti dessi una canoa e ti spiegassi come utilizzarla, ma poi sarai tu a decidere se vuoi utilizzarla dentro una piscina o scendendo le rapide di una cascata. Come per il primo video non sono delle deduzioni assolute, ma sono solo delle mie idee, per cui ci sono sicuramente modi migliori e peggiori di fare le cose rispetto a come le ho fatte io. Prendere il tutto come spunti e poi adattarle alle proprie esigenze, non essendo questi nessuna tipologia di consigli di investimento. Ribadisco ai nuovi che io amo l'azionario e per cui mi baso molto su quello, ma per questa allocazione andremo a utilizzare bond di molti tipi, ma null'altro, per cui nulla commodities, oro, eccetera, eccetera, eccetera. Su che base si costruisce un portafoglio di soli ETF? Prima di tutto però bisogna stabilire il perché, per quale motivo costruire un portafoglio di soli ETF. In un solo termine, versatilità. Con gli ETF ci si può fare praticamente tutto, a parte che io sappia il caffè. Si può investire negli animali da compagnia, nelle aziende vietnamite, nei junk bond, nelle cripto e tanto tanto altro. Esiste una soluzione per quasi tutte le esigenze. Seppure non ci sia nulla di male, anzi, nel comprare asset classi singole, quindi singole azioni o singole obbligazioni, eccetera, la capacità di diversificazione di un ETF può raggiungere dei punti estremamente efficienti e funzionali. E per questo motivo sono una manna dal cielo. Capire per quale scopo lo si sta realizzando è fondamentale. Lo facciamo per la pensione, per i dividendi o per la speculazione. Sapendo lo scopo si può anche capire quali ETF utilizzare, in che percentuali e in che arco temporale il portafoglio si vuole che duri. Come per il video precedente andiamo a parlare prima di tutto inizialmente di liquidità. Anche se gli ETF possono avere una volatilità minore, anche se è vero che ci sono ETF su settori o particolari nazioni specifiche o asset molto ballerini, come le cripto per fare un esempio particolare, questi possono fare montagne russe, però nel caso degli ETF mi sento che la percentuale di liquidità che debba essere accantonata non debba essere vicina al 30% come nel video della settimana scorsa, ma in disponibilità fra il 10 e il 20% dell'allocazione totale del portafoglio, a mio parere questa potrebbe essere sempre necessaria. Passiamo a definire tre portafogli che a mio parere possono essere presi in considerazione, uno conservativo, uno un po' più bilanciato e uno molto più aggressivo. Ovviamente come menzionavo prima non sono delle indicazioni, utilizzate questi come spunti per fare le vostre opportune valutazioni. A ogni portafoglio, oltre a fare un backtest di asset class, ando anche a dare dei spunti per alcuni ETF da andare a selezionare per comporlo. Partiamo dal portafoglio conservativo. Questo portafoglio lo definirei per i debolissimi di cuore, con in mente una persona che vorrebbe comunque andare a divalutare il valore del proprio patrimonio, ma allo stesso tempo che non voglia vivere o sopravvivere agli infarti dei continui sobbalsi ed esalescenti dello stesso. Abbiamo un rendimento di tutto rispetto che dona un cagre del 6,8% all'ordo dell'infrazione e al 4,2% al netto dell'infrazione per un periodo esattamente 30 anni, dal 1993 a oggi. Per cui questo backtesting parte dal 1993. Per tutti i tre portafogli abbiamo considerato quattro asset class diverse. In questo caso, per il portafoglio conservativo abbiamo un total stock market americano, short term treasury americano, long term treasury americano ed un investment grade corporate bond. Le percentuali sono le seguenti. Un 40% di total stock market, un 30% di short term bond, un 20% di long term bond e un 10% di corporate bond. Andiamo a vedere in questo caso alcuni ETF che potrebbero comporlo. Per cui partiamo dal primo portafoglio, andiamo ad entrarci sempre solo in termini di valutazione su gesti ETF, ma poi vi ricordo che la cosa importante è andare sul sito dell'emittente per andare appunto a carpire bene quello che è la gestione del portafoglio dell'ETF, quelli che sono i costi reali e eventuali variazioni che vengono fatte dall'emittente di volta in volta che non vengono aggiornati sui siti di valutazione come possono essere appunto just ETF. Per questo portafoglio abbiamo detto che ci vuole in prima istanza un indice globale e qui possiamo avere due soluzioni che sono prettamente personali, o un ETF sull'S&P 500 oppure un ETF che vada a seguire l'MSCI World. In questo caso è una scelta personale ricordando che se si va ad aggiungere un ETF World si perde qualche punto percentuale, qualche decimo di punto percentuale di rendimento rispetto all'S&P 500, però si va a diversificare verso altri paesi. Per quanto riguarda l'S&P 500 un ETF potrebbe essere questo qui, il CSS PIX, un iShare Core SP500 ad accumulazione. Tra l'altro giusto per la cronaca vi andrò a proporre solo ETF ad accumulazione perché andando a puntare su un portafoglio di questo tipo non credo abbia senso puntare sulla distribuzione. È un ETF di 56 miliardi quasi, 55 miliardi abbondanti di dollari di asset under management, una replica totale ad accumulazione è un TR dello 0,07%. Per quanto riguarda il World, per chi lo volesse, magari il più famoso SWDA dell'iShare sa anche questo, ha un TR leggermente più alto dello 0,20% ma anche in questo caso abbiamo 50 miliardi abbondanti di asset under management. Per quanto riguarda i treasury, quelli a lunga scadenza, abbiamo un TR dello 0,07%, il ticker è SXRC e in questo caso abbiamo 1 miliardo e 400 milioni di dimensioni del fondo. Come dicevo prima, anche in questo caso, anche per i treasury, anche per le obbligazioni ho scelto ad accumulazione. Per quanto riguarda invece i short-term bond da 1 a 3 anni, anche in questo caso una share, il ticker è IS0F, un fondo da 3 miliardi e mezzo, anche in questo caso terra molto basso 0,07% e in questo caso andiamo a coprire in totale tutta quella che è la parte dei bond governativi. C'era rimasto in questo caso la parte dei bond di tipo corporate, in questo caso ho selezionato il Vanguard Corporate Bond con il ticker VUCE, una dimensione del fondo vicina al miliardo 937 milioni, TEL dello 0,09% anche in questo caso ad accumulazione. Ricordo che in questo caso per quanto riguarda le allocazioni abbiamo detto un 40% per l'indice globale che voi scegliate l'S&P 500 o l'MSI World, un 30% per quanto riguarda il short-term bond, un 20% per il long-term bond e infine un 10% per quest'ultimo ETF, il Vanguard, che andrà a coprire i corporate bond. Passiamo poi al portafoglio bilanciato. Questo portafoglio comincia a donare qualche soddisfazione in più aggiungendo anche i paesi emergenti e si avvicina in termini non malvagi al cacre dell'S&P 500. Abbiamo infatti un rendimento, un cacre annualizzato dell'8,4% all'ordo dell'inflazione e un netto del 5,7% considerando l'inflazione e il periodo in questo caso è di 28 anni, in quanto il backtesting sono riuscito a farlo partire dal 1995. Anche per questo backtesting abbiamo considerato quattro asset class diverse. Un total stock market americano, stock market di paesi emergenti, un total bond market e un investment grade corporate bond. Le percentuali in questo caso sono queste, total stock market 50%, mercati emergenti 10%, total bond 30% e corporate bond 10%. Adesso vediamo alcuni ETF per andare a comporlo. Passiamo poi all'altro portafoglio, quello bilanciato. Anche in questo caso valgono le valutazioni fatte prima, per cui il 50% rispetto al 40% precedente di core, per cui la parte di ETF è quello più importante, lo potete decidere di allocare all'SP500 oppure all'MSI World, questa è una scelta vostra, però non mi vado di nuovo a dilungare su questi due ETF. Lo diciamo nuovamente come abbiamo fatto prima, TER 0,07%, 55 miliardi per l'SP500, in questo caso CSS PIX, oppure 0,20% di TER per un fondo di circa 50 miliardi se si vuole andare sull'SWDA per andare a investire invece in un World. Passiamo agli emerging market invece, a cui dedichiamo invece un 10% del nostro portafoglio. In questo caso abbiamo deciso di andare su un X-Trackers, un X-MME, con un TER dello 0,18%, anche in questo caso, ma non lo ribadisco più ad accumulazione, e 4 miliardi e 4, quasi 4 miliardi e mezzo di dimensione del fondo. In questo modo andiamo a investire nei mercati emergenti in toto. Andiamo a vedere anche i paesi, giusto per dare una panoramica più ampia, abbiamo Cina 27%, Taiwan quasi 15%, per cui questi due da sole occupano quasi il 50%, India 13%, Corea 12%, Brasile 5%, poi Arabia Saudita, Repubblica Sudafricana e via via. Ricordo che qui diamo ad allocare un 10%. Per quanto riguarda invece i treasury del total market, sono andato a prelevare per voi questo Vanguard, un treasury bond totale, che va a investire fra un anno e i oltre 25 anni, con una durata media dell'obbligazione di circa 8 anni, 7.9 anni. Se andate comunque sul sito dell'emittente, potete andare a vedere le cedole medie e la duration delle stesse. Dimensione del fondo che supera quasi 600 milioni di euro, anche in questo caso ad accumulazione, e il ticker è VDTA. Ricordo che per questo ETF andiamo ad allocare il 30% della nostra liquidità. Chiudiamo con i corporate bond, utilizziamo sempre quello di prima, che è il VUCE, ribadiamo 0,09% di TER e quasi un miliardo di dimensione del fondo. In questo caso andiamo ad allocare un 10% per quanto riguarda questi corporate bond. Passiamo all'ultimo portafoglio. Chiudiamo con un portafoglio molto più aggressivo. In questo caso mi vado ad orientare su tre ETF solamente, perché il quarto è quello che essenzialmente spetta a te decidere. Quale utilizzare? Lo deciderai tu. Per cui in termini di rendimento un effettivo paragone non è fattibile con le altre due soluzioni, perché a differenza del conservativo e bilanciato, i tre asset che vado a proporle già donano un punto percentuale e mezzo in più dell'S&P500 se prendiamo questo indice di riferimento. Quello che bisognerebbe invece andare a testare è quello che andrai ad aggiungere al portafoglio, quale boost andrà ad accentuare, perché in base all'asset class, all'ETF che andrà ad aggiungere, questo potrebbe aggiungere un boost più o meno intenso. Quindi un ETF che segue un particolare settore o mercato particolarmente trainante in quel periodo, che seppur aggiunto in piccole percentuali, possa donare rendimenti generosi, sempre tenendo conto che questo può comportare anche degli enormi sbalzi di volatilità e un enorme rischio di drawdown non recuperabile in alcuni casi, perché i settoriali possono essere una trappola, un'arma a doppio taglio, se non vengono scelti con criterio. In questo contesto, non avendo dei settori growth di nicchia con uno storico importante, non si riesce appunto, come dicevo prima, a fare un vero e proprio backtesting reale, ma solo dei tre settori storicamente più importanti. In ogni caso, le percentuali che vado a proporre sono le seguenti. Un 50% di total stock market, un 15% di mercati emergenti, un 25% di small cap USA e infine un 10% di un settoriale a tua scelta. Vediamo alcuni ETF per andare a comporlo. Passiamo all'ultimo portafoglio, quello in cui vi do tre ETF io e il quarto dovreste scegliere voi, anche se vado a darvi alcune idee di possibili trend del futuro, che ovviamente, non essendo io un mago, non ho un palantir in mano e quindi non sono né Gandalf né Saruman, non posso dirvi se effettivamente questi saranno i trend del futuro, ma in ogni caso potrebbero essere delle idee su cui ragionare, o poteste voi aggiungere la vostra idea. Come sempre, partiamo dal core del portafoglio, che può essere, come abbiamo detto all'inizio, l'iShare Core sull'SMP500, le CSS PIX, oppure un ETF sull'MSI World SWDA, i due classici di cui abbiamo parlato fino adesso, per cui non c'è niente di nuovo. Inoltre, abbiamo detto anche che in questo portafoglio ci sono gli Emerging Market, e abbiamo aggiunto prima l'ETF, l'XMME, abbiamo anche approfondito quella che è la distribuzione territoriale in ambito mondiale su questi paesi emergenti. Il terzo ETF, quello che non abbiamo aggiunto fino ad ora, è questo qui su Russell 2000, quindi sulle small cap, lo Spider Russell 2000, col ticker R2US, penso che significhi Russell 2000 US, United States. Un tell dello 0,30%, una dimensione del fondo che diventa quasi a 1 miliardo e 700 milioni di euro, e che va a seguire appunto le partecipazioni su quello che è il mercato statunitense delle piccole e medie aziende. Se andiamo a vedere anche quelle che sono le partecipazioni, vediamo ovviamente che abbiamo un 15, quasi un 16% in finanza, salute anche un 16%, industria 14%, e abbiamo alcune aziende che sicuramente molti di noi non conosceranno perché sono molto piccole, o comunque poco sulla bocca di tutti. Forse io conosco Crocs in questo caso, Iridium Communication è un'altra che conosco, ma nient'altro. Sicuramente in questo caso, se si vuole investire in questo portafoglio, e si vuole andare anche a capire quello che è il contesto del Rasse 2000, forse approfondire almeno le prime 10 partecipazioni potrebbe essere un'idea molto intelligente da fare. Ricordo le allocazioni, abbiamo un 50% per il corte del portafoglio, e per cui la S&P 500 o il World, un 15% per quanto riguarda i mercati emergenti, e un 25% per quanto riguarda questo ETF, quello su Rasse 2000. E invece andiamo a dedicare l'ultima parte a questi trend, e vi do alcune idee. Ovviamente ricordo che il trend sono solo i 10%, poi ovviamente ognuno che ha i propri soldi fa quello che vuole, se volete investire il 100% in trend, secondo me non è una cosa sensata da fare, ma fate quello che volete, anche perché questi, come ben sapete, sono solo degli spunti per andare a ragionare per conto vostro su quello che può essere lo sviluppo di alcuni portafogli ETF, e non sono consigli finanziari. Il primo trend, ed è quello che mi piace di più a me, è questo sul lusso, la Mundi S&P Global Luxury, che è un ETF che va a seguire le aziende che appunto vanno a operare nel mercato del lusso. È una replicazione fisica sintetica, con un tell dello 0,25%, e una dimensione del fondo di 548 milioni di euro. Il ticker è GLUX GLUX. Il secondo trend che mi piace menzionare è quello sulle biotecnologie, col ticker SBIO, un tell dello 0,40%, anche questo una replica sintetica, è una dimensione del fondo di 537 milioni di euro, e appunto va a seguire tutte quelle aziende del Nasdaq, Biotech, un indice di questo tipo, che va a replicare le società quotate sul Nasdaq, che operano principalmente in biomedica per sviluppare terapie e cure per la malattia dell'uomo. Sicuramente un trend che si basa sul fatto che andremo un po' allo scatafascio con la nostra salute, mentre il primo si va a posare sul fatto che sicuramente nel futuro i ricchi continueranno a esserci e andare a spendere qualcosa. Il terzo trend è quello che io amo di meno, ma comunque devo anche essere democratico con tutti, e segue tutto quello che è la Global Blockchain, un TER del 0,65%, una dimensione del fondo che è quasi a 500 milioni di euro, e un campionamento fisico, un campionato appunto. Questo ETF è un Invesco, appunto, non l'ho detto prima, che va a seguire una replica totale dell'indice CoinShares Blockchain Global Equity, che replica le società globali di nazioni sviluppate ed emergenti che sono o faranno parte dell'ecosistema Blockchain. Per chi crede nella Blockchain e in tutto quello che c'è intorno, potrebbe essere un buon trend da inserire. Un altro trend è quello sull'intelligenza artificiale del Big Data, un X-Trackers, quindi di Deutsche Bank, TER dello 0,35%, anche questo una replica fisica, in questo caso totale, e quasi 900 milioni di euro di dimensione del fondo. E in questo caso, come dice il nome, si va a investire in aziende, in un indice che segue le aziende, che si occupano di intelligenza artificiale e di Big Data. Altro trend con un ETF il più piccolo di tutti, io non ci investirei, però poi fate quello che volete voi, è l'Ishare Metaverse, un ETF che va appunto a investire in quelle aziende dello Stocks Global Metaverse, un TER dello 0,50%, una replicazione fisica totale, 24 milioni di euro di fondo, molto piccolo, è appunto un indice che va a seguire tutte quelle attività commerciali che hanno come sistema, ecosistema fisico, il metaverso. Diciamo, quelle aziende che di svio, o comunque in maniera completa, vanno ad appoggiarsi nel metaverso per quello che è il loro business. Altro trend che potrebbe essere quello delle automazioni della robotica, l'Ishare Automation Robotics è un fondo abbastanza famoso che in pandemia era esploso, un TER dello 0,40%, replicazione fisica a campionamento, un fondo che supera i 3 miliardi di euro di capitalizzazione dell'asset under management e appunto va a seguire tutte quelle società del mondo che sviluppano tecnologie nel campo dell'automazione della robotica dei mercati sviluppati ed emergenti. Passiamo all'ultimo trend, secondo me che vale la pena citare, ce ne sono altri, c'è l'idrogeno, ce ne sono tantissimi, non potevo citarli tutti, però volevo darvi alcune idee. E in questo caso i semiconduttori, cosa che nel futuro serviranno tantissimo, il FANEC Semiconductor, in questo caso col ticker SMH, va a seguire l'indice MWISE US Listed Semiconductor 10% CAPED. In questo caso si tratta anche di aziende che hanno una politica di ESG, a me non è che me ne interessi tanto, però comunque vale la pena citarlo. Sono titoli azionali inclusi e sono filtrati a seconda dei criteri ESG ambientali e la ponderazione massima di una singola azienda nell'indice è limitata al 10%, anche perché in questo indice ci sono solo 25 partecipazioni. Spero di avervi dato alcune idee, ritorniamo alla mia faccina. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o non investire, ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento, in ogni caso, se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire per favore il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece me hai appena conosciuto potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Io ti saluto ad un prossimo video. Ciao! Ciao!